Domani, con i consueti anticipi, si aprirà la terza giornata di ritorno nei campionati regionali di eccellenza e promozione. Tre le gare in programma nel massimo torneo regionale, la capolista Vasso Girardi ospiterà il Castaldi di Rocca Ravindola e Roseto. Una gara da non fallire per le due formazioni. Se da un lato i padroni di casa sono a più 13 dal Boiano ma non hanno nessuna intenzione di interrompere la loro corsa verso la promozione diretta, il Roseto oggi naviga nelle zone alte della classifica, pronto ad aggiudicarsi un posto nei play-off. Con fischio di inizio alle 14.30 la gara sarà diretta da Domenico Petraione di Campobasso. Il Venafro, diretta inseguitrice del Boiano, affronterà la polisportiva Gambatesa. Gli ospiti sono pronti a dare una svolta al girone di ritorno inaugurato con due sconfitte. Inoltre sono pronti a riscattare il 3-1 dell'andata. Venafro, che è terzo in graduatoria, non lascerà nulla al caso. Dalle 15 al Marchese del Prete l'incontro sarà diretto da Medeomonaco di Isernia. L'ultimo match, sempre in programma alle 15, vedrà in campo Matese e Alife, penultima contro ultima. Un periodo difficile per entrambe le formazioni, impelagate nei bassi fondi della classifica ma che hanno grande voglia di riscatto. Una gara che alla vigilia si prospette equilibrata. Fischietto, disegnato, Pasqualino Fattore, della sezione di Isernia. Per il campionato di promozione, la cliternina, ultima della classe, ospiterà l'Aurora Aururi. Le due compagini sono reduci da una sconfitta e dunque pronte a riscatto per conquistare punti fondamentali in ottica salvezza. Con fischio d'inizio alle 14.30, la gara è stata affidata a Francesco Scarati di Termoli. Inizieranno invece alle 15 le altre due gare in programma. Si giocherà l'Acqua Santiani di Trivento, Don Chessagnone e Santeliana. Quarta contro penultima, un match che alla vigilia sembra favorire i padroni di casa. Ma la Santeliana è pronta a cambiare passo, decisa a non abbandonare il campionato di promozione. Infine, nel capoluogo al Campobasso 1919, ospiterà l'Aurora Capriatese, uno scontro diretto tra due formazioni che occupano le zone alte della graduatoria. All'andata terminò 5 a 1 in favore dei casertani a dirigere l'incontro Matteo Matarese di Termoli.